salve a tutti cari amici sono sempre io ricercatore indipendente emiliano babilonia in questi giorni purtroppo vengo attaccato da mafia militare infatti prima stavo effettuando un video in diretta sui miei canali di youtube e canali di facebook voglio ricordare il mio gruppo elettro ingegnerie clandestine oppure siamo tutti cavie umane voglio ricordare i miei blog vittime del controllo neurale satellitare blogspot oppure satelliti spia blogspot oppure ricercatori di fenomeni spiegabili nel mondo i miei canali di youtube angeli gustoti mk ultra italia e poi c'è l'altro emiliano babilonia la fotografia con l'occhio nero allora cari amici mafia militare sta attaccando praticamente le vittime in tutta italia e io vengo attaccato più di tutti perché sto cercando di aiutare in modo gratuito le vittime che vengono sottoposte a questi esperimenti di mafia militare di terroristi militari attraverso il radiocontrollo mentale a distanza questo è un attacco effettuato da agenzie deviate super istituzionali che attaccano la popolazione italiana un attacco terroristico di un colpo di stato neurale a tutti gli effetti quando le persone mi contattano e dicono mi hanno messo sotto una no ma le indagini non è così le indagini non devono essere né rilevate dall'individuo che viene messo sotto indagini o pedinamenti l'individuo non deve avere nessun tipo di cambiamento nel comportamentale né di pensiero e né di abitudini quotidiane noi vittime del controllo mentale da parte di esperimenti da parte di servizi segreti militari di mafia militare terroristi militari abbiamo la vita totalmente distrutta infatti adesso il magistrato che mi ha denunciato per la seconda volta per lo stesso identico reato guarda che strano i servizi segreti militari ammazzano mia nonna e mia zia io ero il tutore di mia nonna e mia zia e da tutore divento occupante abusivo di casa di mia nonna ovviamente se io ho già denunciato che i servizi segreti di mafia militare hanno ammazzato mia nonna e mia zia con i satelliti e che ci sono state delle anomale morti infatti dopo la morte di mia nonna e di mia zia io non ho avuto più la possibilità di avere un sostegno economico perché ovviamente mia nonna e mia zia prendevano due accompagni essendo invalide tutte due al 100 per cento due pensioni di cui una la reversibilità dello stipendio di mio nono del ministero della marina quindi mi sarei praticamente sistemato in un certo senso stando a casa di mia nonna perché avrei avuto la possibilità nel tempo di avere poi a riscatto casa di mia nonna e di usufruire perlomeno di un piccolo compenso perché non sarebbe stato più chiamato più chiamata il badanto la badante notturna perché l'avrei fatto direttamente io essi sarebbero praticamente risolti tutti i problemi sia della nostra famiglia e ovviamente anche i problemi miei per un alloggio per poter poi dormire e stare con i miei parenti fatalità come io poi ho pensato ho detto pensa questo appartamento potrebbe servire un indomani per aiutare le vittime al controllo mentale per permettere una residenza legale per l'associazione che io vorrei aprire proprio per aiutare le vittime al controllo mentale come ho cominciato a dire queste cose a pensare queste cose in giro di pochi giorni muore mia nonna e dopo 19 giorni muore e mia zia nello stesso identico appartamento se questa non è un'esecuzione effettuata dai servizi segreti mi pare strano che due persone muoiono mia nonna ovviamente 80 e passa anni 86 88 89 mia zia 60 e tutte e due muoiono nello stesso identico appartamento e io automaticamente divento occupante abusivo arriva il vigile a casa dopo qualche giorno che è morta mia nonna e mi dice che cosa fa vuole lasciare l'appartamento oppure no io ho detto guardi io non so dove andare per adesso allora il vigile dice va bene allora porti le pratiche che deve portare al tribunale o le case popolari per vedere se passerà nel contratto al nome suo io ho detto va bene intanto io continuo a pagare l'affitto che pagava mia nonna che erano gli 8 euro al mese e 25 euro di condominio a un certo punto che cosa succede che dopo totte mesi non so due tre mesi qualcosa del genere ritorna il vigile dice io purtroppo sono cambiate le leggi devo fare questa denuncia di occupazione abusiva che ho detto va bene detto tanto io ho mandato tutte le carte tutte le pratiche al agli uffici delle case popolari per vedere di che cosa come si potrà risolvere questo problema il vigile mi dà questo foglio mi dice tanto ti faccio questa denuncia questo foglio mi lascia il foglio dopo otto mesi mi arriva una sentenza del tribunale che non sussiste il reato di occupazione abusiva perché io non ho sfondato l'appartamento e sono entrato all'interno io sono solamente rimasto nell'appartamento dove già alloggiavo dopo la morte di mia nonna e di mezzia quindi io prendo questo foglio vado un'altra volta dai vigili e gli dico guardate mi è arrivato questo foglio che non sono occupante abusivo adesso che cosa devo fare vai a fare le pratiche all'ufficio mi pare che stava all'euro per farti fare l'assegnazione dell'appartamento di casa di tua nonna vado a fare le pratiche dopo un po mi arriva un'altra sentenza e mi dicono che io non avevo il diritto guarda che cosa strana per rimanere all'interno di questo appartamento perché non stavo nel censimento fatto precedentemente a quello di mia nonna io quel periodo lavoravo e non abbiamo non mi sono messo nel censimento perché praticamente se no mia nonna avrebbe pagato cifre stratosferiche di affitto però perché era una transazione che stavo cercando di trovare delle soluzioni per rimanere per rimanere diciamo per sempre all'interno di casa di mia nonna definitivamente qualcosa è andato però storto e è saltato praticamente tutto perché basta che passava un altri due tre mesi e io non avevo praticamente più problema rimanevo direttamente a casa di mia nonna senza avere nessun tipo di problema o preoccupazione i servizi segreti di mafia militare invece che mi stanno sparando adesso le frequenze sul corpo mi stanno sugli scadano il corpo perché mi vedono dai satellite di spia da dentro i nuclei operativi speciali dei servizi segreti militari di mafia militare e di terroristi militari hanno praticamente creato dei danni a tutta la mia famiglia per far sì che io dovevo perdere l'appartamento fatalità in italia dopo che ho parlato con l'ufficiale dei vigili l'ufficiale dei vigili gli ho fatto vedere il foglio ma hanno detto che non sono occupante abusivo adesso che cosa posso fare? il vigile ha detto dice guarda vai da un avvocato delle case popolari e vedi che cosa ti dice sono andato ad un avvocato delle case popolari e io gli ho fatto vedere tutti i fogli e l'avvocato mi ha detto ho fatto pure la tessera addirittura l'avvocato mi ha detto dice allora aspettiamo la sanatoria come ti danno la sanatoria? te fai immediatamente richiesta che stai all'interno di questa ti autodenunci che stai all'interno di questa abitazione e che praticamente chiedi di essere integrato all'interno del contratto di casa di tua nonna abbiamo aspettato mesi non è mai arrivato niente dopo sono ritornato all'euro e mi hanno detto che siccome non stavo all'interno del censimento di casa di mia nonna che la casa non me l'avrebbero data dopo qualche mese mi arriva un nuovo bollettino che non era più di 8 euro e 25 euro di condominio ma di 200 euro e praticamente più il condominio allora io non lavoro o non lavoravo in quel periodo vengo sottoposto ad interrogatori continui e levaggi del cervello attraverso tecnologie di controllo e di manipolazione mentale effettuata dai servizi segreti militari che creano destabilizzazione della vittima che viene sottoposta al radiocontrollo cognitivo con mappatura celebrale attraverso un elettroencefalografo elettromagnetico trascranico che modifica le frequenze dei centri nervosi centrali creando delle clonazioni di patologie create attraverso mappature cerebrali prese all'interno degli ospedali all'interno di maricomio, all'interno di carceri e vengono poi messe su persone sane noi essendo ipersensibili a queste frequenze e radiazioni sentiamo mille, duemila, tremila volte di più tutte queste frequenze sparate sul nostro corpo quindi attraverso questi armamenti satellitari immessi dai servizi segreti militari io non posso certamente andare a lavorare in un cantiere perché se vado a lavorare in un cantiere questi mi amplificano determinate frequenze io potrei addirittura cascare di sotto da un ponteggio o addirittura mi potrei tagliare una mano con una sega mi potrei bruciare con una saldatrice oppure mi potrei morire folgorato attraverso i cavi dell'alta tensione della corrente elettrica oppure potrei cascare da una scala mi potrebbero bloccare il cervello mentre sto praticamente su una paradia un trabattello, qualunque cosa e mi potrebbero far cascare di sotto siccome già è successo che stavo su un tetto hanno cercato di farmi svenire attraverso un attacco radio satellitare che ha bloccato praticamente le frequenze sul mio corpo facendomi addirittura perdere l'equilibrio e cascare in ginocchio su un balcone e meno male che c'erano delle antenne io mi sono arretto subito a queste antenne se no sarei cascato dal quinto piano io definirei questo gesto un attacco terroristico verso i miei confronti effettuato dai servizi segreti militari di mafia militare ovviamente io ho denunciato 26 volte che vengo spiato 24 ore su 24 dai servizi segreti militari da mafia militare ma ancora nessuno ha fatto niente infatti i servizi segreti mi parlano ancora in testa durante la notte con interrogatori continui lavaggi del cervello minacce di morte mi dicono che mi bloccheranno il cuore attraverso un defibrillatore satellitare che mi bloccheranno il respiro attraverso determinate frequenze che inibiscono l'attività elettrica del cervello con i miei polmoni e mi dicono che mi indurranno al suicidio praticamente mi suicidano allora io ho sentito queste cose minacce in continuazione ho preso ho fatto una nuova denuncia e l'ho portata in tribunale fatalità dopo che ho portato questa denuncia dopo 3-4 mesi un nostro carissimo amico ex consigliere regionale all'improvviso ha dei malesseri anomali e rileva anche lui delle anomali frequenze per induzione forzata al suicidio guarda che cosa strana infatti quando l'ho sentito per telefono mi ha detto quando stavo all'ospedale mi ha detto non ce la faccio più mi stanno portando al suicidio e purtroppo non è facile dopo anni e anni di lavaggi del cervello e torture che vai a denunciare i carabinieri alla polizia alla guardia di finanza mi attaccano con i satelli di spia con le armi ad energia diretta ad onde convogliate vengo di continuo pedinato oppure vengo di continuo spiato da agenzie deviate sovra istituzionali perché questi non sono indagini questi sono esperimenti militari effettuati sulla popolazione italiana questi esperimenti effettuati sulla popolazione italiana servono per controllare e spiare tutta la popolazione perché un'indagine non devi ascoltare operatori che ti barrano in testa durante la notte ti minacciano e ti dicono che tu sei un criminale che tu sei di qua che tu sei di là questi sono torture fisiche e psicologiche per creare la psicologia del terrore perché ovviamente viene accusato in continuazione di reati che te non puoi fare ma questo giochetto i servizi segreti lo sanno bene perché con questi giochetti eliminano i testimoni chiave di determinati processi di terrorismo, di mafia e anche di altre cose dello Stato metti caso che ci siano dei pentiti o dei collaboratori di giustizia che all'improvviso capiscono che non è la criminalità organizzata a fare determinati reati ma che è lo Stato che fa i reati e poi dà le colpe alla criminalità organizzata e questi pentiti ovviamente vanno a denunciare, a dichiarare quello che succede e questi pentiti vengono attaccati con queste armi, con queste frequenze fino a farli suicidare perché ovviamente senti le frasi in testa ti dicono ammazziamo tua madre, ammazziamo tua zia, ammazziamo tua nonna ammazziamo quello, facciamo questo, facciamo quest'altro alla fine una persona che si sente in continuazione questo dice come risolvo? Se mi suicidano risolvo questo problema ma in realtà noi vittime del controllo mentale che siamo tantissimi nel territorio nazionale italiano noi non facciamo nessun tipo di reato, non facciamo proprio niente però rileviamo i sistemi di controllo e di spionaggio che vengono usati sulla popolazione questi sono esperimenti militari a tutti gli effetti non indagini o pedinamenti, esperimenti militari a tutti gli effetti infatti stanno morendo migliaia di persone sulle strade e autostrate attraverso il controllo mentale e radiocognitivo come a Canneto di Caronia, passavano sotto le gallerie che si spengevano le macchine e questi si ribaltavano sotto la galleria oppure gli anomali incidenti sul raccordo anulare alcune persone stavano con la macchina ferma in una piazzola di soccorso con le quattro frecce all'improvviso un camion non vede questa macchina con le quattro frecce accese con il segnalatore, con tutto quanto e in veste queste due povere ragazze e le due ragazze muoiono ma non è finita qui il camion si ferma in mezzo alla strada va a soccorrere le ragazze un'altra macchina dietro non vede il camion e l'altra macchina con le due ragazze che ancora vive dentro e l'altra macchina ammazza il guidatore del camion, l'autista e ammazza le due ragazze e muore pure quello dentro la macchina cioè qualcosa insomma di veramente strano sembrano atti di canicazzer multipli attraverso il controllo della radiomanipolazione neurale satellitale speriamo che queste tecnologie non vengano utilizzate sui piloti di linea perché sennò avremo migliaia di probabili aeri canicazzer che punteranno all'interno non di due torri gemelle ma all'interno di migliaia di posti sensibili con migliaia di persone innocenti in tutta la nazione avete visto pochi giorni fa una persona spara a due poliziotti e poi questa persona viene ferito la persona ferita è ancora viva i due poliziotti che gli ha sparato erano solo feriti muoiono tutte e due poliziotti ma questa persona rimane viva le iene fanno un reportage e risulta che praticamente questa persona sentiva le voci e veniva attaccata da qualche frequenza no ma da qualche sistema anomalo come se era posseduto da qualche entità questo si parla che sono manipolazioni di attacchi di controllo mentale attraverso le frequenze radio cognitive quindi questo è stato un attacco terroristico satellitare di mafia capitale e di terroristi capitale sulla polizia addosso alla polizia contro la polizia di stato e la polizia di stato deve un attimo cominciare a capire quello che sta succedendo perché se la polizia di stato non si accorge che gli attacchi terroristici che inducono persone a sparare contro i poliziotti diventa grave per la polizia di stato perché se no dopo tutti i poliziotti in Italia potrebbero diventare i futuri manciuliani e che facciamo se sparano tutti dentro i commissariati o dentro le procure e dentro le questure quindi qualcuno deve incominciare a risolvere questo problema di mettere la super sicurezza satellitare per capire e trovare quali sistemi tecnologici e quali satelliti potrebbero manipolare le frequenze radio cognitive dei poliziotti o di chi infierisce contro la polizia di stato io non sono a favore delle forze dell'ordine o a favore dello stato io non sono niente io sono solo uno stratega diciamo un inventore stratega che studia determinati fenomeni che sono accaduti a me e che questi fenomeni potrebbero accadere a persone delle forze dell'ordine delle forze armate oppure al classico bambino ultimamente questi bambini prendono molto facilmente le sedie e si buttano dal balcone un bambino sta a scuola prende la sedia e si butta dalla rampa delle scale ma che strano com'è che accadono i stessi identici avvenimenti con le stesse identiche modalità strano eh? non è strano? per me è molto strana questa cosa oggi stavo da una parte arriva una persona mi vede mi fa ah ma te che cosa fai sempre qua? ti ho detto guarda qui c'è una presa c'è il wifi mi posso connettere tranquillamente senza avere nessun tipo di problema perché quando sto a casa mi attaccano con le armi ad energia diretta non deconvogliate con Isatelli di Spia e quindi non posso stare dentro casa questa persona mi dice eh addirittura ti attaccano con Isatelli di Spia chi sarai mai? gli ho detto eh lo so non sono nessuno ma purtroppo devo aiutare le vittime del controllo mentale e devo aiutare determinate persone che chiedono aiuto in continuazione per essere protette da questi sistemi di armamento questa persona si siede vicino a me si mette a ridere dice ah ma te mi prendi in giro ma non esistono queste tecnologie prende e se ne va via ma io rilevavo quel momento delle frequenze forti in testa dei disturbi le frequenze provenivano dalla luce perché erano attacchi biofotonici con frequenze elettromagnetiche e sistemi laser ad onde convogliate che passavano il mio cervello passavano i miei centri nervosi e creavano praticamente delle patologie indotte si chiama collegamento sincronico tra il satellite le amplificazioni dei campi elettromagnetici frequenze biofotoniche e frequenze neuroniche che vengono sparate sia all'interno delle frequenze infrasoniche nei miei condotti unitivi le mie frequenze biofotoniche degli occhi le frequenze neuroniche dei centri nervosi centrali e ovviamente quando una vittima un target individual dice mi stanno attaccando a questa tecnologia o a questa arma molte volte dice no sono i vicini sono i parenti sono quello di sotto quello di sopra perché non sanno come funziona la reale tecnologia usano i satelliti spia per attaccarci con questi armi ad energia diretta ad onde convogliate io credo che in questi giorni manipoleranno l'avvocato che sta seguendo la causa mia relativa all'occupazione abusiva di casa di mia nonna che non è occupazione abusiva mia nonna è morta è rimasto dentro casa sono stato assolto per quel reato però il giudice dopo cinque anni ha detto dice no ti denuncio un'altra volta l'occupazione abusiva e va bene un'altra cosa veramente strana che chi mi ha denunciato è il sindaco di Roma guarda che strano la Raggi e la Raggi sta sotto indagine ma guarda che strano il magistrato che mi ha denunciato è un ex magistrato del Polantimafia ma guarda che strano pure questo non vorrei che qualcuno dalle alte sfere ha voluto fare un qualcosa per invogliare questa ulteriore denuncia verso i miei confronti perché ovviamente io denuncio tutto quello che accade ho fatto 26 denunce dettagliate portate in procura ho denunciato tutto non gridevavo frequenza anomale in determinati posti che mi attaccavano con le armi di energie dirette che vengono attaccate molte vittime in Italia che vengono sottoposte al lavaggio del cervello e torture istigazione al suicidio in continuazione interrogatori continui durante la notte dalle 3 di notte alle 6 di mattina i servizi segreti mi parlano in testa mafia militare mi parla in testa in continuazione per non farmi dormire mi creano danni di ogni genere trovo un affare vi faccio un esempio voglio acquistare una telecamera termica riesco a trovare la telecamera termica scrivo per prendere la telecamera termica all'improvviso sembra che questa persona che risponde sia totalmente alterata e non mi vende più la telecamera termica tutto questo ovviamente accade per creare la destabilizzazione delle mie ricerche la destabilizzazione dei miei test e la destabilizzazione delle vittime che praticamente perdono molte volte la fiducia di quello che noi stiamo facendo ovviamente una telecamera termica costa dei soldi io quando aiuto le vittime non prendo mai soldi chiedo solamente alle vittime di fare un'intervista testimonianza anonima e di dare un contributo all'associazione per fare la tessera associativa basta non chiedo niente poi se loro ovviamente vogliono un'assistenza dal legale penale noi possiamo indirizzare un avvocato penale e fare la prima consulenza gratuita visto che siete associati d'associazione e però è la prima consulenza gratuita non è che vi può improntare una causa dopo l'avvocato vedrà attraverso il vostro ISE attraverso il vostro reddito se avete diritto al gratuito patrocinio e l'avvocato sapendo la vostra situazione vi seguirà attraverso una causa penale con il graduito patrocinio se ne avete diritto perché ovviamente non è che un'associazione può pagare di tasca propria cause effettuate da determinate persone che denunciano molte volte cose inverosimili noi non possiamo denunciare galline non possiamo denunciare i cani i passerotti e gli uccellini sul balcone non possiamo denunciare che i cani abbagliano del vicino quando la persona esce fuori dal balcone non possiamo denunciare perché ci sono delle roulotte sotto casa di alcune persone che dicono che queste roulotte stanno lì perché devono sparare le frequenze dentro casa di queste persone non possiamo fare questo le persone purtroppo molte di queste persone sono ignoranti in materia nel senso che ignorano la reale tecnologia di controllo e di spionaggio che viene collaudata e attestata su di loro queste vittime non capiscono che loro rilevano dei sistemi radar di spionaggio o armamenti di spionaggio che collaudano su di noi cari umane loro devono vedere le frequenze che ci sparano addosso che patologie ci creano o che disturbi ci creano nel lungo periodo perché se io sparo una frequenza un secondo e poi la levo non succede niente al corpo ma se io ti metto la frequenza faccio un esempio 30 hertz fissi sparate addosso 24 su 24 per un anno loro dopo un anno vedono che cosa ti è successo al corpo poi sparo la frequenza di 40 hertz la frequenza di 50 hertz su altre vittime e vedono che cosa ti succede sul corpo se loro trovano una frequenza faccio un esempio la 3,5 hertz la mettono su mille vittime e su queste mille vittime 700 che prende il tumore loro che fanno prendono la frequenza 3,5 hertz e la mettono su altre mille vittime e vedono che cosa succede su 700 su mille vittime 700 che prende il tumore allora loro dicono abbiamo trovato la frequenza che genera tumori sulle persone questo è un esempio oppure ad altre persone mettono una frequenza che blocca il ragionamento logico le persone non riescono più a ricordare a delle persone mettono delle frequenze che bloccano la vista creano appannamento della vista ad altre persone mettono delle frequenze che creano influenza indotta ad altre persone mettono delle frequenze della perdita della memoria ad altre persone che mettono le frequenze dell'eccitazione le frequenze del desiderio all'alcol del desiderio alle sigarette del desiderio alle droghe e tutto questo fa guadagnare miliardi alle lobby sopra istituzionali coperte dalle tecnologie che dovrebbero essere la sicurezza nazionale ma in realtà è la copertura della sovranazione istituzioni totalmente deviate dello Stato che prendono soldi in nero da mercenari per sperimentare e collaudare questi satelliti sulle cave umane ovviamente questo serve per costringere le persone a fare determinati tipi di reati determinati tipi di di ragionamenti la maggior parte di questi ragionamenti sono che la cave umana una volta che viene analizzata che vengono sperimentate le frequenze sulla cave umana la cave umana quando non serve più viene fatta morire i primi sistemi sono far finta allora viene manipolata la persona con la depressione frequenze della depressione sparate in testa fortissimo poi fanno credere che la persona che è depressa è malattata in mente sente le voci schizofrenica ma com'è che la stessa identica situazione che è successa a quel ragazzo che ha sparato i due poliziotti strana questa cosa poi un'altra cosa dopo fatto tutto questo se non riescono a far suicidare l'individuo cominciano a pilotare l'individuo a bere alcol a usare droghe a camminare in macchina magari gli creano un tontimento perdita della vista perdita dell'orientamento e si potrebbero fare gravi incidenti stradali a me mi hanno fatto fare quattro incidenti stradali mi hanno addormentato e mi hanno bloccato il cervello creandomi l'appannamento della vista e io ho frenato all'improvviso a mezzo metro da un autobus sono scivolato sono andato a fine sotto l'autobus meno male che non è successo niente ho spaccato il motorino meno male però che non è successo niente perché andavo molto piano e altri avvenimenti che sono accaduti e sono successe tante altre cose infatti adesso quando vado in macchina guido sempre io vado pianissimo e cerco di stare sempre attento a tutto e a tutti mentre cammino per strada perché mafia militare potrebbe pilotare le altre persone che mi stanno intorno e farli diventare cari gazzer verso la mia macchina o verso la mia persona io sono stato addormentato all'interno di un locale e mi sono risvegliato dopo un minuto e mezzo quasi due in mezzo alle strisce bianche della strada mentre passavano gli autobus e camion e macchine ad alta velocità sentito bene sentito quindi con queste tecnologie possono fare tutto oppure ti costringono ad andare in determinati posti dove loro poi possono dire hai visto sei andato lì oppure è successo un avvenimento fanno succedere avvenimenti alle vittime target individuals per fargli vedere come funziona il teatrino da strada il teatrino da strada sono persone normali che vengono pilotate attraverso il controllo mentale e non si accorgono di essere pilotate i manciuliani a tutti gli effetti radio pilotati dal sistema voi vittime del controllo mentale target individual vi svegliano vi fanno vedere come pilotano le altre persone e dopo vi mettono delle deduzioni e preoccupazioni se siete persone sveglie e coscienti e intelligenti capite subito che stanno pilotando quelle persone per farvi vedere come funziona la tecnologia di controllo mentale molte volte addirittura istigano le persone che ci stanno intorno ad aggredirci a minacciarci e a farci addirittura del male oppure gli fanno pensare in modo anomalo di quello di quello che noi facciamo io sono stato definito un eroe di stato da molte vittime un angelo custode che sta aiutando le persone attaccate con questi sistemi questo sono stato definito ma altre persone che sono manipolati dal sistema del controllo mentale dicono che io invece mi sono inventato tutto ho fatto tutto per creare una scena mi hanno rovinato la vita vent'anni sotto radiofrequenze torture fisiche e psicologiche ho fatto venticinque denunce dettagliate portate in tribunale oltre diecimila ore di registrazione tra interviste video ho messo cinquemila video su internet da tutte le parti stiamo facendo conferenze dirette radio web ho una radio web Emiliano Babinona Spreaker Emiliano Babinona Mixcloud la seconda vari canali di youtube blog tutto per divulgare questo attacco terroristico di mafia militare e di terroristi militari contro la nazione italiana contro i cittadini che stanno all'interno della nazione italiana la nazione italiana l'ho definita la nuova Ausfield alle docane ci devono scrivere non benvenuti in Italia benvenuti ad Ausfield Italia prima le persone le prendevano le mettevano le camera a gas e le ammazzavano adesso ci fanno stare nelle nostre abitazioni che sono sempre delle camere e ci ammazzano con le microonde la stessa identica cosa in sovrappressione vedete la mia email le vittime del controllo neurale che ho c'era gmail.com se mi volete scrivere per fare le interviste testimonianze anche anonime così apriremo gli occhi la mente l'udito e la vista alle persone che praticamente seguono i miei canali sto preparando una nuova conferenza questa conferenza si chiamerà complotti di Stato e parleremo a 360 gradi di tutti i complotti anomali che sono successi nel territorio nazionale italiano e poi verranno ovviamente degli ospiti molto importanti ho già contattato il generale Pappalardo e ho detto che lui sarà presente all'evento e quindi poi contatterò altre persone importanti per farle venire a questo evento che deve far capire deve aprire la mente alle persone che praticamente sentiranno determinati tipi di testimonianze e sentiranno determinati tipi di avvenimenti che accadono di continuo nella nazione italiana e che molte volte vengono chiusi troppi occhi per non far arrivare ai veri reparti operativi ai veri nucleo operativi determinate stragi di Stato attentati di Stato e colpi di Stato a tutti gli effetti vi saluto cari amici ricordatevi che purtroppo sono stato condannato a morte dai servizi segreti di mafia militare e dai servizi segreti di terroristi militari italiani quindi se un'indomani io non ci sarò più l'unica cosa che vi chiedo è di divulgare il più possibile questi miei video spero spero che la verità incominci ad arrivare a galla perché quando indomani la verità arriverà a galla e spero che qualcuno dei servizi segreti si penta all'interno di questi posti e che denunci tutto come ha fatto Hidwa Snowell in Stato Unire America di questi esperimenti ovviamente atroci militari che vengono fatti della nazione italiana per attestare e collaudare queste armi queste tecnologie dopo lì molte persone si riederanno sul mio operato saluto a tutti amici la ricerca indipendente Emiliano Babilonia